ciao a tutti e buon mercato a tutti stiamo entrando in una fase decisiva perché le notizie cominciano a essere tante ed importanti sulla sponda milan c'è questa suggestione ramsey vedremo a cosa porterà ma soprattutto sul mercato dell'inter c'è questa cessione di lucaco che evidentemente preoccupa il mondo nero azzurro e agita tutta la serie a vedremo chi sarà il sostituto e c'è un intreccio anche fra inter e milan su questo fronte ne parleremo nel nostro consueto retroscena ma partiamo con il milan partiamo con l'opzione ramsey perché in casa juve c'è un gallese di troppo lo sta provando allegri da regista ma in realtà il lui è una mezzala un trequartista guarda caso il ruolo tanto necessario a pioli e cosa sta succedendo un contatto c'è stato ovviamente il giocatore verrebbe volentieri lo conosce bene gazidis con cui ha condiviso tanti anni all'arsenal lo conosce bene girù ci sono poi gli aspetti economici sarebbe assolutamente un low cost perché facendo un po di conteggi lui ha diritto allo sconto fiscale italiano e rimanendo in italia sponiamo che il milan paghi metà del suo stipendio all'ordo costerebbe soltanto 6 milioni quindi nella politica accorta della società l'opzione ramsey non va trascurata però sono in corso delle riflessioni perché lo sappiamo il numero uno dei sogni e rimane ziek del celsi ma con la società londinese non è facile dialogare lo abbiamo visto non solo per tumori ma anche per lo stesso bagaio co che ormai è quasi fuori dai radar rossoneri e quindi vedremo come andrà a finire la caccia del trequartista perché si parla anche di se baios che in uscita dal real madrid dopo l'esperienza anche lui all'arsenal non particolarmente positiva però almeno se baios è giovane vedremo vedremo quali saranno le valutazioni perché i nomi di isco di cannes rodriguez sono stati fatti in abbondanza in questi giorni ma nessuno di loro soddisfa e poi e poi c'è quel vlasic che al csk ci sta malvolentieri lo zenith si è fatto avanti ma la proposta ancora non è quella soddisfacente è il motivo per cui il milan tiene tutti in sospeso la scelta verrà fatta al momento opportuno ma ormai il tempo stringe e questo non riguarda soltanto evidentemente il trequartista ma anche l'ala destra perché le quotazioni di ilic scendono ma chi sarà l'altro attaccante c'è ancora tanta attesa e poi c'è la questione di dalot perché col manchester united non si trova la quadra il prestito viene concesso c'è stata questa opzione per trippier dall'atletico madrid che evidentemente toglierebbe le uniche speranze per il portoghese di essere confermato in rosa e lui al milan ci tornerebbe volentieri poi vedremo il resto in ogni caso per maldini e massara il lavoro all'orizzonte tanto senza dimenticare rinnovi perché chiesi sta per finire le sue vacanze e si siederà al tavolo per l'atteso prolungamento sino al 2025 e poi c'è anche chi è che anche lui il contratto in scadenza e potrebbe avere un rinnovo per un altro anno certo con l'ambizione di essere anche il nuovo capitano del milan un rinnovo non gli farebbe male sembrava che l'inter avesse saldato i conti economici con la vendita di hachimi al psg ma adesso c'è anche lucaco in partenza e l'addio dolorosissimo appare imminente perché il celsi ha fatto già una super offerta 100 milioni più il cartellino di marcos alonso invece da via la liberazione sono molto fermi non va via per meno di 130 milioni sono parole forti ma questo non deve trarre l'inganno perché anche il centro anti belga ormai sembra convinto perché lui all'inter e guadagna otto e mezzo ma il celsi che non dimentichiamolo è il club campione d'europa gliene offre almeno 12 e poi non c'è solo l'aspetto economico c'è una prospettiva di carriera che evidentemente a quasi 30 anni è irripetibile e anche l'inter deve fare i conti con questo ecco perché adesso in questa fase delicatissima il lavoro di marotta e ausilio è dedicato anche a individuare il successore si parla costantemente di zapata e l'atalanta ma anche di vlaovic e la fiorentina e questi sono le candidature eccellenti in un momento cruciale per il futuro interista l'impressione è che marina granoscavia abbia già chiara l'idea su come alzare l'offerta ci sarà ancora marcos alonso nel mezzo oppure si arriverà a quota 115 120 questo può avvenire già in fretta ecco perché nel frattempo gli interisti si stanno orientando per capire quali altre soluzioni possono essere buone oltre a quelle già citate di zapata e vlaovic per il futuro non è un mistero piace molto raspadori del sassuolo che però incedibile e poi c'è quel correa della lazio che in uscita e che in zaghi valuta molto bene insomma siamo in una situazione ancora interlocutoria mentre non dimentichiamo che c'è anche l'altro fronte aperto quello che riguarda nandez del cagliari l'urguagliano è appena sbarcato in sardegna è stato diplomatico ma dal suo entourage arrivano venti di guerra perché il giocatore ha una promessa giulini e lui vuole venire all'inter insieme a quel nengolan che vuol fare il percorso inverso sono stati necessari dei rinvii perché c'è una questione di dettagli per un prestito che parte da 5 milioni la richiesta di giulini 3 milioni l'offerta di marotta vedremo se si verranno incontro perché è chiaro che nel frattempo lievitando la trattativa per l'uscita di lucago l'inter anche più soldi a disposizione da mettere nel futuro di questa trattativa che comunque è molto ben avviata partenze arrivi in casa juventina oggi sbarca caio jorge l'attaccante del santos che arriva subito grazie a un indenniso di milione e mezzo più un altro bonus di altro milione e mezzo al santos superlano venturo e soprattutto un attaccante di grande prospettiva che è stato strappato al milan non dimentichiamolo e poi invece per quel che riguarda le partenze demiral è ormai destinato all'atalanta prenderà il posto di romero che è stato ceduto a sua volta al tottenham per 50 milioni più 5 di bonus semplici e in questa vicenda invece da juventus ha tratto una lezione perché perché quando è stato ceduto romero proprio della juve all'atalanta per appena 16 milioni più altri due di bonus evidentemente è stata una scelta diciamo leggera ecco perché in questa occasione la juventus per demiral non ha voluto correre lo stesso rischio quindi si tratta solo di un prestito con diritto di riscatto a 28 milioni però la juve anche un diritto sulla rivendita insomma si sono cautelati a torino poi ci sono le altre vicende quelle che conosciamo c'è il pressing su locatelli con il sassuolo anche se questa storia alle sue problematiche di natura diplomatica perché quelle frasi di carnevali quelle di nedved hanno fatto alzare la temperatura e soprattutto la juventus non alza la sua offerta che compresi bonus arriva a 32 mentre invece il sassuolo ne chiede 40 più altri bonus più un diritto sulla rivendita insomma è una situazione che si è complicata quasi dal nulla anche se locatelli alle idee chiare lui vuole la juve e questo alla lunga non troppo alla lunga inciderà perché comunque nella testa di allegri il primo rinforzo per il centrocampo locatelli e più avanti piani soprattutto se ram si dovesse uscire vi abbiamo parlato del milan ma non c'è solo il mina per il gallese e comunque la condizione fondamentale perché appunto il bosniaco lasci il barcellona in prestito per rivestire la maglia bianconera è nato un intrigo per sardar asmun 26 anni centravanti dello zenti san pietroburgo con cui ha segnato 45 gol in 63 partite e tanto per essere chiari ne ha fatti anche 37 in 55 con la nazionale iraniana insomma il ragazzo il vizio del gol ce l'ha e adesso in scadenza di contratto lo ha trattato da roma il bayern l'everkusen la settimana scorsa l'aveva praticamente bloccato ora è tutto libero per le milanesi perché il milan comunque un pensierino per un attaccante lo sta facendo e l'inter lo sappiamo ha un'urgenza ecco perché il suo nome tenetelo a mente ciao ciao e buon mercato anche questa settimana